La luce crede di viaggiare più veloce di tutto, ma si sbaglia. Per quanto sia veloce, la luce scopre sempre che il buio è arrivato prima di lei e l'aspetta. Così scriveva Terry Pratchett. La luce è il buio, il giorno è la notte, il bagliore è la tenebra, il buio. Un giorno il signor Brian Hugh Warner decise di essere quello posto vivente, la contraddizione in un solo corpo e divenne Marilyn Manson. Marilyn Manson. Thank you. Grazie. Your people Your people My people Our people Our people Ognuno ha i people suoi. The beautiful people Allora, il look, il tuo look, è una maschera che ti nasconde o è uno specchio di verità? Quando ero Brian Hugh Warner non mi piacevo. Adesso non sono qualcuno che non sono. Ho deciso di essere qualcuno diverso da quello che ero prima, diventando Marilyn Manson. Ho letto una tua bellissima intervista su Rolling Stone a cura di Emiliano Colasanti. Un'intervista che vorrei approfondire. Come tu sai, l'Italia è un paese di romantici, è il paese dell'amore, è il paese dei santi. Mi ha colpito che tu volessi far uscire il tuo ultimo disco, Heaven Upside Down, il giorno di San Valentino. Perché secondo te è un giorno tragico? Perché è un giorno tragico il giorno di San Valentino? Non sono certo. Probabilmente quando ero molto piccolo, vedevo che c'erano molti bambini con queste carte di San Valentino. Ero un bambino e frequentavo una scuola cristiana. Ma in realtà non so perché sia nato questo sentimento. Credo che il mio giorno preferito sia il 15 febbraio, perché il 15 è il mio numero preferito. Ci sono molte persone in America che non vedono Roma e l'Italia nel modo in cui le vedo io. Le considerano dei luoghi che rappresentano semplicemente la religione. Secondo me invece rappresentano anche l'arte. Io sono anch'io un artista, sono una persona romantica. Fellini. Adoro Fellini. Ad esempio, questo è il luogo in cui Fellini ha fatto la sua arte. Per me è un grande regista e un grande autore. Heaven Upside Down aveva un altro titolo in partenza, che era Sei Ten Sei Di Di Ten Dieci Che però ho letto in inglese è Satan Cioè Satana L'hai cambiato poi? Sono stato molto impulsivo, proprio come un bambino. E quando stavo per ultimare Il disco Prima di San Valentino È successo qualcosa che non potevo prevedere. Mio padre si è ammalato. Quindi in un certo senso Credo che la morte di mio padre Mi abbia permesso di scrivere la canzone Heaven Upside Down. Non era completata, era stato scritto il testo, Non era ancora una canzone con la musica. E poi sono riuscito a terminarla, anche se non sono mai riuscito a suonarla per mio padre. E ho pensato che questo potesse descrivere l'album e la sua interezza. Heaven Upside Down è importante perché tu guardi il cielo, guardi le costellazioni, Ma puoi guardare anche il buio che le circonda, non solo la luce. Puoi guardare lo spazio negativo. Dipende quindi dalla prospettiva, il negativo, il positivo. Il tuo personaggio è un personaggio volutamente disturbante, un personaggio volutamente caotico. Tu sei l'uragano. Eppure oggi la gente ti avvicina per fare una foto e se ne va. Che cos'è? Una sconfitta. Ma mi fa sempre molto piacere incontrare delle persone. È difficile, soprattutto quando ci si ferma per poco tempo, incontrare e conoscere delle persone. Però io sono una persona e un personaggio. A person e a persona ci sono poche lettere di differenza. C'è una differenza però quando sono sul palco e quando sono fuori dal palco. Quando sono sul palco canto per delle persone che non ho mai incontrato. Quando sono fuori dal palco posso parlare invece con persone che già conosco. Questa è la differenza. Ma forse sono terribile fuori dal palco, sul palco no. Ma preferisco momenti buoni, momenti cattivi, un andamento su e giù. Mai una situazione piatta. È molto più divertente. Altrimenti ci si annoia. Per questo io sono il Hurricane Brian. Io sono il Hurricane Manson, l'uragano Manson. Sono una depressione tropicale. So che ti è piaciuta tantissimo la serie The Young Pope di Paolo Sorrentino. È vero? Sì. Dici che hai trovato in questa serie grandi affinità con la tua America. In che senso? Ho pensato che in un certo senso esprimesse dei commenti sulla politica americana. Adoro il Gerlò. E credo che lì sia veramente molto bello. Ho pensato che non ci fosse molta nudità, ma diciamo che questa cosa l'ho perdonata. Ma mi è piaciuta molto quella serie, sì. Perché secondo me analizzava le cose forse da un'altra prospettiva. Non so in che modo l'avete percepita voi. Ma da parte mia, come americano, mi sono fortemente identificato con quella serie. Perché io sono andato una volta in Vaticano e sono stato praticamente aggredito. È stato veramente sgradevole, brutto. Era una donna grassa, è brutto dirlo, ma non era magra per niente. E lei mi ha detto vattene qui, da qui immediatamente. Io volevo comprare qualcosa con l'effigie del Papa e poi sono andato dal McDonald's. Ma ho pensato che sia stata veramente molto sgradevole quella signora. Negli ultimi concerti tenuti in Italia, lui è stato arrestato con l'accusa di oscenità. Però, aspetta, il rapporto della polizia diceva esattamente questo, che durante lo spettacolo avevi estratto i genitali, momento, questo è niente, e li aveva tirati al pubblico. Ora, io personalmente credo sia molto difficile da fare, cioè, onestamente. Anche perché poi lo fanno una volta sola, dopo vatti a ripiare. E tu che... Puoi controllare, eh? No, no, ti ringrazio. No, no. Cioè, che strana questa cosa. È successo anche in America. In America spesso i politici utilizzano dei bersagli facili, come me. Perché io sono un bersaglio semplice, chiaramente. Perché io vengo definito come l'Antichrist Superstar, la Superstar Anticristo. E quindi spesso i politici usano degli pretesti stupidi, soltanto al loro vantaggio come politici. Tutti sanno, potete stare tranquilli, i miei genitali sono qui al loro posto, non vi preoccupate, non li tirerò contro di voi. Eh no! No, non conviene. No, 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 no. Cioè, sinceramente. No, no, ho bisogno, ho bisogno di loro. Ho bisogno di loro. Ho bisogno di loro. Ma poi... Fa malissimo. Ho bisogno di loro. E non so come si possa fare. E certo. Buona signora, no, ha detto che non li tira, signora. Stia serena. Non li tira. Una signora ingorda. Ah, è sciarmato. No, 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 lo farò, tranquilli, non lo farò. Ok. Peraltro, so che fai delle strane collezioni, cestini di metallo per il pranzo e hai un santuario di protesi mediche ricco di arti artificiali e occhi di vetro, ma cose tipo conchiglie, figurine. Conchiglie. Ma che ne so, una cosa... Ma hai veramente questa roba qui? Sì, sì, ho veramente quelle cose lì, sì. Perché i fumetti sono noiosi. Mi piacciono i film. Ma sono io un fumetto, io posso essere un fumetto. Io sono il tuo fumetto preferito. Ma le pagine sono tutte incollate insieme. Lo so, succedeva anche a me da ragazzo. La... Che cosa... Che cosa... Hai altri collezionisti con cui fai degli scambi di protesi? Di cose... Capita? Ho scambiato il mio seno indossato a Mechanical Animals. Era una cosa di fantasia. Non era chiaramente nulla di reale. Tutto finto. Tutto finto. E l'ho dato a Johnny Depp. E lui mi ha dato la sua parrucca dal film Blow. Io ho la dentiera di nonno. Che ci posso fare con... Di cosa... Ma comunque so che sulla mano hai tatuato il sigillo di Lucifero. Questo qua. Che cosa rappresenta? Naturalmente è il primo angelo caduto all'inferno. Forse tutti potremmo essere l'angelo ribelle caduto e salvare il mondo adesso. E forse se c'è uno che può farlo sono io. Prego, Mr. Manson. È il momento di esibirsi. Prego, 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 prego. Che poi... A pensarci bene su quello che ha appena detto. È curioso. Siamo sempre alla ricerca di qualcuno che salvi questo mondo. Chi vuole che venga salvato? Chi vorrebbe venisse salvato dal basso? Chi vorrebbe venisse salvato dall'alto? Però a pensarci bene. Noi in mezzo non fiamo mai niente però. E se lo facessimo noi invece provare a salvare questo mondo? Magari cercando una cooperazione di coscienze. Tutto pronto? Tutto pronto. Il brano che state per ascoltare è un brano che arriva proprio stranamente e tristemente a fagiolo in questa epoca. Un brano che parla di gente che viene abusata, di gente che abusa e di gente che vuole essere abusata. C'è una febbrile attesa per l'interpretazione che ora ci regala Marilyn Manson di questo splendido brano originario di Eurythmics che è Sweet Dreams. Ma io prima volevo fare un esperimento. A little experiment. Perché la traduttrice non c'è più. So now you have to understand me with my English. or I get you alone. Può essere. Dico però... You are the devil. The bad. The bad. Ok. In Italia, tu sei quello cattivo. In Italia c'è il cantante più buono del mondo. Cantante più buono. The most buon... Cantante. Buon cantante. Singer. Singer. Sì, state mezzitti. Singer. Ok. Cantante. Yes. Può essere. Sempre lui. Cantatata. Bravo. Cantatata. Volevo fare una foto insieme. Così c'era il buono, il brutto e il cattivo. Gianni! Gianni! Vieni! Vieni, vieni! Che tu sei social. Vieni! Questo è sincretismo musicale. When I get you alone. When I get you alone. Nice to meet you. Facciamo la foto. Che? Play guitar. La macchina ce l'hai? Yes, yes. Ok. Selfie. Selfie, yeah. When I get you alone. You're not gonna like it. Sì, no, gli piace, ma deve fa la foto. Are you in John Wick 2? Ma che sta succedendo? Ok. Tiè, guarda che tripletta. Grazie Gianni. Perfetto. Come the damn it. Don't worry about it. Don't worry about it. Yeah, yeah. Allora, un piccolo intermezzo di umane reciproche volontà, Marilyn Manson, Sweet Dreams. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas? Everybody's looking for something. Some of them want to abuse you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be you. Yeah, 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 yeah. Moving on, moving on, moving on, moving on, moving on, moving on, keep your head up, moving on. Moving on, moving on, moving on. Grazie a tutti 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 Marilyn Manson A tra poco con music Grazie a tutti Grazie a tutti